Eccomi qua, scusate la faccia, ma è sera, sono un po' stanchina, però ci tenevo a farvi questo video. Giusto giusto per la festa del papà abbiamo avuto la possibilità di testare il DC43H Mattress, o il nuovo arrivato in casa nostra, che già adoriamo, ed è il migliore amico del papà. È arrivato per la festa del papà, cosa volete? Ormai è diventato suo, anche perché io ne ho già altri due da gestire di Dyson. Allora, perché il DC43H Mattress, avendo già il DC62? Allora, intanto io sono allergica agli acari della polvere, anche il mio marito e anche ai gatti, abbiamo due gatti. Quindi volevamo questa spazzola, che è apposta contenuta nel mattress, per aspirare i materassi, tutti gli imbottiti, quindi i divani, i cuscini, le copertine in pali, dove i nostri gatti amano dormire, quindi ce le riempiono tutti di peletti che vanno tirati su da questa spazzolina, e soprattutto comunque gli allergeni che poi ci fanno staruntire e lui lo fanno russare. Quindi, siccome non ho tantissimo tempo per mettermi là a montare l'aspirapolvere grande, questo qua è comodissimo, perché comunque così come lo vedete, non è la base, ma solo la spina che si infila qui si ricarica, ha una potenza veramente incredibile, e potete pulirvi i letti. Noi abbiamo fatto il test, anzi l'ha fatto il papà, visto che comunque ormai è suo, e si è messo a pulire, no, comunque devo dire, scherzi a parte, l'ha fatto volentieri, perché comunque si è reso conto di quanto sia pratico da usare. Quindi si è messo a pulire tutti i letti, i materassi, e poi a un certo punto mi faceva, guarda, con una soddisfazione incredibile, perché essendo il Dyson qui trasparente, potete vedere tutto quello che aspira. Ed è uscita tutta una polverina, che se avete mai pulito il vostro materasso avete già vista, ma qui è ancora più evidente, una polverina bianca molto sottile, quelle sono tutte le cellule morte anche della nostra pelle, che si depositano, e stanno belle lì nel materasso, e diventano il cibo degli acari della polvere. Questo Dyson è fatto apposta, cioè questa spazzola è fatta apposta, non è vendibile a parte. Una cosa che ci tengo a specificare è che voi vi starete chiedendo se è possibile applicare la scopa del DC-62 a un aspirapolvere del genere. Non si può fare perché il tubo, cioè le scope, hanno un particolare meccanismo all'interno per cui non si possono applicare ai portatili. Questo è il motivo per cui se voi acquistate un DC-62, quindi un portatile senza filo, ma con la scopa lunga, avete anche tutti gli accessori che poi ci sono in questi piccolini. Quindi la scopa è anche un portatile, ma il portatile non è una scopa, quindi non ce lo potrete mai applicare, non troverete mai il tubo da mettere, almeno per ora, poi non so se in un futuro lo faranno, ma per adesso non si può fare. Quindi questo è diverso dal DC-62, non solo per la spazzola mattress, quindi per i materassi. Abbiamo fatto la prova in macchina, quindi ho approfittato di mio marito e mi sono detto vai vai vai, pulisci un po' tutta la macchina. E veramente lì è stato incredibile, perché comunque io sinceramente non mi sono mai messa a scendere giù in garage a pulire con il Dyson grande la macchina. Quindi questo è comodissimo. Quando ce l'avete in carica totale, tutto quello che vedete durante questo video, quindi i materassi, il divano, i peluche, la macchina, l'abbiamo fatto con una sola carica e non si era ancora scaricato. La potenza, tra questo per dire il DC-62, nella potenza base sono uguali. Tutti e due hanno il tasto per aumentare la potenza. Nella potenza massima il DC-62 è più potente, però a me non sembrava. Quindi vuol dire che evidentemente è potente anche questo, perché a me sembrava quasi che questo fosse più potente. Sono andata a guardarmi le istruzioni. Come tutti i Dyson non ha il sacchetto, ha solo il filtro da lavare che è contenuto qui. Eccolo qua. Questo è il filtro che dovete staccare e lavare ogni tanto, se come chiaramente dell'uso. Le altre spazzoline in dotazione sono la classica, diciamo, sì, spazzola lunga, io la chiamo, che è quella che sta per lavare negli angolini. Questa qui, che in realtà sono due spazzole, perché sia questa, senza i peletti, e questa con i peletti con cui noi puliamo anche il gatto. La nostra gatta piace. Non è che la maltrattiamo, la nostra gmini è trattata come una resina, ma a lei piace proprio essere spazzolata con la spazzolina del Dyson. Non so perché, ma si mette a cancellare e si fa spazzolare. Quindi ben venga. Un'altra spazzola che è la prima volta che ho è questa, che assomiglia un po' a quella del laptop, che vi avevo fatto vedere nell'altro video, però chiaramente è dritta, quindi non ha la forma, diciamo, per pulire sopra le minissole o sopra le lampadari, però è morbidissima, quindi è comodissima per pulire in mezzo ai fili, il decoder, il Disky, tutte le Nintendo Wii, tutte quelle cose, diciamo, molto delicate, che non possono essere aspirate con molta potenza, ma hanno questa spazzola molto morbida, che comunque aspira tutto e toglie la polvere. Che vi posso dire? Io sapete che adoro Dyson? E no, a parte, diciamo, la mia adorazione totale, è questa spazzola che comunque fa la differenza, perché veramente è comodissima, quindi per chi, come me, ha poco tempo per magari dedicare la casa, alla pulizia di pelusci, mamma mia, quanta roba che è venuta fuori dai pelusci, io non credevo, questa spazzola è veramente il massimo. Detto tutto, Dyson Forever! Ciao ciao!